Voi avete avviato numerosi incontri, adesso promuovete anche un laboratorio, un laboratorio di idee. Sì, praticamente mettere in campo un progetto condiviso per fare ripartire questo territorio. Un progetto che sia elaborato dalle cittadine e dei cittadini di questo territorio, dove incontrando associazioni, parrocchie, scuole, comitati di quartiere, insomma abbiamo organizzazioni. Da tutti è venuta fuori l'idea che questa città sta morendo, ma dall'altra anche rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti per dare una prospettiva soprattutto ai nostri figli. Sostanzialmente lei dice che bisogna fare rete per uscire da questa situazione. Sì, perché molti giocano sulle divisioni di questo territorio. Noi ci siamo resi conto incontrando a livello nazionale varie istituzioni, incontrando anche a livello regionale, puntano molto su questa nostra incapacità di fare rete. Bene, noi invece pensiamo che i cittadini e le cittadine abbiano tutto il diritto e soprattutto la voglia di fare qualcosa per il proprio territorio. Questa è una città ricca di energie, di risorse, di movimenti, associazioni, parrocchie, eccetera, molto attive. E quindi è da lì che noi vogliamo partire, dalle persone in carne e ossa, utilizzando degli strumenti chiari che ci aiutano a definire un progetto che faccia ripartire questo territorio. In un'area molto più diretta, pragmatica, facendo rete si trova il lavoro? Facendo rete non si trova il lavoro, ma si pongono... E' chiaro che noi guardiamo all'immediato, al medio e a lungo termine. Questa città va ripensata. La gente non ha più lavoro. Molti facevano fronte sullo stabilimento, su Leni, che ha ridimensionato. È una partita che andrebbe poi giudicata perché siamo arrivati a questo punto e tutto il resto. Però in questo territorio stanno arrivando tantissime risorse, ci sono tantissime opportunità che possono portare allo sviluppo di attività lavorative, ci sono tanti soldi che devono essere spesi per le bonifiche e queste bonifiche vanno ancora progettate e attuate. Lì potrebbero trovare lavoro tantissime persone, ma andrebbero attivate anche delle altre funzioni che sono la formazione di quegli operai che hanno perso il lavoro e che potrebbero andare a lavorare dentro quei cantieri. Ci sono altri cantieri che potrebbero partire, ma per mancanza di autorizzazioni non partono. Allora noi dobbiamo fare fronte comune, come si dice dalle nostre parti, qui non c'è più tempo per babbiare. Cioè qui nessuno può giocare sul futuro di questo territorio. E quindi dobbiamo essere noi cittadini a rimboccarci le maniche e a darci aiuto perché nessuno ci viene a salvare. Ce ne siamo resi conto. E nella rete coinvolgerete anche l'amministrazione comunale? Con l'amministrazione comunale noi avremo un dialogo diretto perché è chiaro che noi quello che elaboreremo lo porteremo sul tavolo delle istituzioni, delle varie istituzioni e loro saranno anche più forti nella richiesta di quello che vuole questa città perché non sarà il tizio o il caio ad averlo elaborato in una stanza con due o tre soggetti, ma sarà la città che insieme deciderà quale futuro dare a questo territorio.